Michele Antonino tempo di bilanci si dice che nel calcio giovanile conta la crescita dei ragazzi ma tu con i tuoi giovanissimi sperimentali della bacica lupo pasto marina si è riuscito anche a portare a casa il titolo regionale crescita e vittoria di un campionato la soddisfazione è doppia certo l'anno scorso è stato un anno da incorniciare per per noi per la bacica lupo perché comunque vincere un titolo regionale non è cosa di tutti i giorni certamente noi il nostro intento di far crescere i ragazzi di formarli non solo sotto l'aspetto tecnico tattico ma anche sotto l'aspetto mentale umano cerchiamo di formare il gruppo di farli stare insieme di fargli capire certe regole che serviranno non solo per giocare a calcio ma anche per il proseguo del loro cammino sia a scuola sia nell'ambito lavorativo che dire la prima parte di stagione diciamo è stata positiva ho avuto qualche problema con qualche infortunio di troppo che ha un po condizionato l'ultima parte del del girone però ci siamo tranquillamente qualificati per il girone elite dove andremo come sai ad affrontare le migliori formazioni di abruzzo ci uniremo col girone di chiedi pescara e dove sappiamo bene che quasi tutti gli anni sono i padroni del campionato regionale sia per quanto riguarda gli allievi che giovanissimi quasi sempre la squadra vincente da queste due città chiedi o pescara almeno vedendo il dal manacco degli anni gli anni passati niente noi proveremo innanzitutto di far crescere i ragazzi di arrivare io non mi pongo obiettivi c'è nel senso che certo sarebbe bello ripetere quello che è successo l'anno scorso però sono cosciente anche i ragazzi penso che sono consapevoli che vincere sarà difficile però io come dicevo l'anno scorso vi dico sempre a loro dobbiamo sempre puntare al massimo per cercare di arrivare sempre più su e vedere di raggiungere gli obiettivi più importanti che si possono raggiungere anche perché l'anno scorso non partivate da favoriti poi però comunque è arrivato il titolo come si fa a stimolare questi ragazzi nonostante la giovanità non è semplice soprattutto quello che stavi dicendo tu con la vittoria dell'anno scorso io il gruppo il gruppo 2005 praticamente è rimasto lo stesso gruppo con l'aggiunta di due tre elementi nuovi quindi la squadra praticamente la stessa e quindi all'inizio c'è stato qualche problema a livello mentale di approccio al nuovo campionato dove sappiamo bene che almeno noi adulti lo sappiamo che è ben diverso dal campionato sperimentale dove probabilmente non partecipavano tutte proprio tutte le formazioni regionali però è stato sempre un campionato di alto livello quello dell'anno scorso sperimentale quest'anno è più difficile perché partecipano ovviamente tutte le migliori formazioni d'Abruzzo Grazie a tutti